Grazie Presidente. Colleghi, i prezzi delle materie prime stanno crescendo vertiginosamente in tutta Europa e le imprese fanno sempre più fatica ad approvvigionarsi. I prezzi dell'acciaio sono saliti del 117-150%, quelli del polietiliene del 113-128%. Se un'azienda ha bisogno di una fornitura di polistirolo deve aspettare 12 settimane, mentre microcipe e componenti sono praticamente introvabili. E questo non è soltanto un problema per le imprese, è un problema per tutti noi, perché queste risorse sono fondamentali per i nostri piani di ripresa che sono finanziati da Recovery Fund. Ecco perché mi preme ricordare ancora una volta, così come ho fatto in tutti i rapporti di cui sono stata relatrice, che l'unica risposta possibile è una vera e forte politica industriale europea strettamente interconnessa con la nostra strategia commerciale. E serve maggior flessibilità sulle clausole di salvaguardia, in modo da attivare e disattivare i dazi velocemente in base alle esigenze del mercato e delle imprese, permettendo quindi alle risorse di entrare quando servono, bloccando invece la concorrenza sleale quando c'è sovraccapacità. Grazie.